Il podcasting ha un super potere, può mettere in connessione le persone in qualsiasi ora, in qualsiasi luogo per portare intrattenimento, informazione, educazione o addirittura aiutarti a fare marketing. È per questo che abbiamo lanciato lo scorso anno il Festival del Podcasting, il primo festival italiano dedicato a chi ha creato un podcast a zero e ha raggiunto ora un audience da migliaia di persone per scoprire insieme i segreti, che cosa ci sta dietro un podcast di successo. Quest'anno da Roma, dalla sede di Radiospeaker.it, sponsorizzati da Spreaker, la migliore piattaforma al mondo per portare il tuo podcast sul web, ti invito alla seconda edizione del Festival del Podcasting. Grazie a tutti. Grazie a tutti.